Sulla vicenda giudiziaria che riguarda il sindaco di Priolo, Antonello Rizza, una novità dell'ultimo minuto scompiglia le carte in tavola. Infatti il prefetto di Siracusa ha dichiarato Rizza arrestato in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa sospeso di diritto alla carica di primo cittadino del comune di Priolo Gargallo. Come vi avevamo anticipato Rizza, dopo un breve consulto con i propri legali difensori, aveva annunciato le proprie dimissioni. La misura cautelare degli arresti domiciliari era arrivata con un fulmine a ciel sereno in piena campagna elettorale per le regionali di novembre che vedeva il primo cittadino priolese come candidato favorito per la conquista del seggio di Forza Italia nel territorio siracusano a Sala d'Ercole. Una mossa strategica, quella che Rizza aveva previsto che lo avrebbe posto nella posizione neutrale venendo a mancare le condizioni della misura cautelare già prima dell'interrogatorio di garanzia che si sarebbe tenuto nei prossimi giorni davanti al GIP del Tribunale di Siracusa Giuseppe Tripi. Il primo cittadino di Priolo nell'incontro di ieri nella sua abitazione con i legali aveva detto di essere sereno e di volere continuare a tutti i costi nella sua campagna elettorale. Gli avvocati avevano anche annunciato di voler ricorrere al Tribunale del Riesame per l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare. Ma adesso la scelta del prefetto di sospendere di diritto Rizza dalla carica di sindaco di Priolo ha scompigliato ancora una volta le carte in tavola.